ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti oggi come circuito andremo a trattare l'anello ad alta velocità questo è un circuito che si trova che praticamente è una versione in teoria ridotta del circuito di monza alla alta velocità conosciuto anche come sopra la rata di monza o catino di monza è una parte del circuito da gara sulla quale del tutto parzialmente si è disputato il gran primo d'italia del 1992 al 1938 e di nuovo dal 1955 al 1956 e dal 1960 al 61 il circuito è conosciuto in tutto il mondo perché è stato uno dei primi anelli di alta velocità costruite apposite veramente per permettere lo svolgimento di corse automobilistiche altrimenti non è possibile più correre e più per sé percorrere completamente il tracciato a bordo di un'automobile ma viene ancora utilizzato per lo svolgimento di alcune manifestazioni sportive l'anello ad alta velocità dell'automobile di monza conosciuto anche come il catino di monza e a causa della sua forma a bordi esterni in rilievo rispetto a quelli interni è un circuito ovale composto da due curve semicircolari con raggio di 320 metri unite da due rettilini paralleli da 857 metri ciascuno la lunghezza totale tracciata è di 4250 metri e la pendenza laterale arriva fino all 80 per cento su due superlevate l'inclinazione serviva a ridurazione della forza centrifuga sulle vetture permettendo ai piloti di percorrere anche le due curve a oltre 300 km orari infatti all'epoca non erano ancora nate le attuali tecniche aerodinamiche che permettono attraverso l'iniziamento dei flussi d'aria il generale di riportanza e lo sfruttamento all'effetto solo l'unico metodo per mantenere le vetture stabili senza diminuire la velocità di percorrenza era costruire piste con grande inclinazione il tracciato era stato costruito per volere del responsabile del progetto appositamente per poter abbattere il record di velocità fino ad allora stabiliti e per permettere ai costruttori di provare nuove soluzioni per migliorare le prestazioni dei loro automobili un altro obiettivo che si poneva il gruppo di ingegneri era quello di un informale di regolamento tra europa e america copiando la forma e la struttura degli avali statunitensi come ad esempio quello di indianapolis per la prima volta in europa fu introdotto in oltre un sistema di guardarelli di contenimento ai bordi della pista per che già in uso oltre oceano questa tecnica data la sua efficacia fu poi applicata anche a tutte le strade e autostrade italiane il mando stradale costituito da una colata di cemento rinforzata con armatura di ferro la raghezza della sede stradale di circa 12 metri e di sliverlo tra il punto di alto e il punto più basso della pista causato dall'inclinazione di circa 5 metri il problema principale di questo tipo di circuiti era la sicurezza per i piloti per le persone della direzione gara e per il pubblico già nella pista precedentemente costruita nel 1922 e poi in parte demolita per far spazio all'anello si erano verificati molti incidenti anche mortali a questo costituì una sfida per ingegneri bilanzoli che però riuscirono a trovare un compromesso tra prestazione delle vetture e sicurezza per fare ciò i progettisti antonio berri e aldo di lenzo si proposto per disegnare un tracciato che presentasse ai piloti condizioni di marcia omogenea evitando cambi di marcia e l'utilizzo dei freni per ottenere velocità elevatissime e contemporaneamente diminuire il pericolo in pratica i piloti alla guerra delle loro vetture acceleravano all'inizio della gara e inserivano le marce che scalavano solo al termine della gara quando per ritornare dai rispettivi team ralentavano la loro velocità e precedevano verso la zona di abilità di adibita a peter lane nella data velocità nacque come un autodromo per lo spettacolo vieno poche curve ma con inclinazioni elevatissime per permettere di raggiungere altissime velocità in modo tale da dare spettacolo a chi avesse assistito alla gara una parte molto importante che fu studiata per la prima volta al mondo durante la costruzione dell'autodromo era accordo tra rettiline e curve infatti bisogna costruire un punto di passaggio in cui le vendenze aumentassero gradualmente senza però rischiare di far perdere alle vetture l'aderenza necessaria per rimanere in pista un altro motivo che spinse i progettisti a realizzare una pista dove si potessero raggiungere velocità molto elevate fu la necessità di circuiti di prova per le case automobilistiche locali fino a pochi anni prima basta uscire dalla città per trovare lunghe strade non trafficare a dove valuta dove valutare le prestazioni dei prodotti prima della vendita ma l'esigenza di ampliare il mercato sempre in più stati e resta pubblicatoria per i produttori la ricerca di nuovi luoghi per testare i limiti degli automobili la data velocità nasce per cercare di riprodurre le condizioni del tracciato stradale più estreme portando le vetture alla facilità più elevate possibile permettendo ai piloti di fermare le vetture quando ritengono di aver acquisito sufficienti dati infatti era possibile percorrere tutto il catino senza togliere il piede dell'acceleratore e si poteva ripetere la prova fino a quando non si fossero raggiunti gli obiettivi prefissati il traccio della divisa in di settore al cui interno veniva valutata una caratteristica diversa della macchina in questione delle camere e sensori posizionati lungo il tutto il perimetro permettevano di ritrovare grandi valdità di dati utili al sviluppo della vettura è abbastanza dura lunga la storia di tutto quanto la nata procedere già previsto dal progetto originale della totomo di monza dell'architetto alfredo rosselli il progetto infatti precedeva la costruzione di due piste ovali l'una affiancata all'altra per una lunghezza data di 14 km e una costo preventivo di 6 milioni di lire la prima pista sarebbe stata quella stradale mentre la seconda l'anello ad alta velocità la prima pietra fu posta alla fine febbraio da vincenzo lancia e felice nezzaro ma subito insorse le prime perplessità di carattere ambientale e la sospensione di lavori in seguito all'intervento del sottosegretario della pubblica distruzione per motivi di valore artistico e di conservazione del paesaggio per permettere comunque la costruzione della totomo si decise di ridurre a 10 km la lunghezza totale del tracciato e occupare in totale un'area di 340 ettari il 15 marzo 1922 iniziano definitivamente i lavori in cui partecipano più di 3500 parai e 300 mezzi la pista fu completata in 110 giorni e fu collaudata al 28 luglio dello stesso anno da pietro bordino e felice nezzaro a bordo di una fiat 570 il circuito completo era costituito dalla pista stradale lunga 5,5 km dall'anello ad alta velocità lungo il primo anello ad alta velocità era composto da due curve sopra allevate di circa 2,6 metri congiunte due rettilinei lunghi circa un chilometro e le velocità massime raggiunte erano di circa 180 chilometri orari la giornata piovosa del 3 settembre 1922 segnò l'inaugazione definitiva dell'impianto brianzolo con lo svolgimento di gran premio vetturette vinto da pietro bordino apporto la sua fiat 501 modello corsa successivamente sulla pista di monza iniziano a disputarsi anche le prime gare motociclistiche nel frattempo in tutta europa nacque le nuove autotomi dove si disputavano le altre gare del campionato europeo che nel suo colendario prevedeva il gran premio d'italia nel 1903 ci fu un grave incidente durante il gran premio dove persa la vita giuseppe campari bacconi borzachini e stanislao sacchia uschi questo tagge ricasso la chiusura definitiva del tracciato che fu stituito con una sola pista stradale da 6,3 km costruita nel 1939 l'anello ad alta velocità che veniva ancora utilizzato per la disputa delle gare ma la percorrenza delle vetture era prevista solo sulla sobralevata sud e sul raccordo del circuito florio l'anello architetto che progetto questo nuovo lagatto a caso di queste modifiche la società di si ridusse notevolmente e le automobili tedesche iniziano a primeggiare nelle competizioni fu una regia del numero strutture sia per il pubblico che per il supporto del team di competizione fu costruita una tribuna d'onore con più di 2000 posti dotata di un ristorante una pit building composta da 30 bots e una torretta per i cronometristi la seconda guerra mondiale fermo tutte le attività di carattere sportivo dell'autodromo a favore di attività burocratiche come il luogo in cui venivano conservate le pratiche del pubblico registro automobilistico alla fine della guerra del 1945 solo pochi edifici rimassero ancora agibili e per tre anni l'autodromo restò chiuso per delle ristrutturazioni nel 1950 nacque il campionato di formula uno e il primo gran premio d'italia vado per la lotta del titolo mondiale si disputò un sottracciato stradale con le curve finali pavimentate in profitto e fu vinto da nino farina nel 1955 fu costruito l'attuale anello alta velocità che nel tempo divenne il simbolo dell'autodromo nazionale di monza nel 1955 su ordine dell'allora direttore dell'autodromo a giuseppe baccia galuppi in tutta l'area si realizzano opere di ammodernamento e si ricostruì la pista lunga 10 km che come nel progetto del 1922 proponeva un traccio stradale collegato all'anello all'alta velocità fu realizzato un circuito ovale con due sopra levate delle pendenze elevatissime la nuova pista alta velocità misurava 4250 metri ed era costruita su una struttura di cemento armato e non su un terapiano come la precedente e avrebbe consentito ai piloti di raggiungere i 280 km orari furono opposte ai bordi dell'anello sette torrette dalle quali veniva esposta la classifica per permettere agli spettatori di essere sempre informati sull'andamento della gara in quel periodo la popolazione monzese che 25 anni prima era scettica a riguardo della costruzione della totomo contribui attivamente allo svolgimento dell'operazione fornendo mano d'opera e portandolo del cibo agli operai il lavoro terminò nell'agosto 1955 proponendo il settore nord praticamente invariato mentre il settore sud era stato arretrato per permettere al pubblico e ai detti ai lavori di transitare liberamente anche dall'ingresso del parco di mirabello l'11 settembre 1955 nonostante l'incidente che costò la vita circa 80 persone alle mans alcune settimane prima il nuovo terciato da alta velocità fu inaugurato con la disputa del gran primo d'italia che vide vincitore joan manuel fungio e al suo mercedes v 196 e fu catezzato da un grande fruenza di pubblico l'anno successivo sulla griglia di partenza si schierano 25 vetture e a differenza dell'anno precedente si presentarono anche i team inglesi il vincitore fu starline moss a bodresso maserati seguito da peter collins a john manuel fungio in terza piazza alla fine del gran premio però i piloti annunciarono che non avrebbero più corso nel cattino di monza a caso delle sollecitazioni dovute alla disoconnessione del tracciato che mettevano alla prova anche la resistenza dello sterzo e delle sospensioni nonostante questo il periodo d'oro dell'anello dell'anello era appena iniziato la storia apparecchio lunga raga c'è non so se quanto verrà lungo questo video e manco solo se avrò messo anche se vi metterò dei filmati perché veramente adesso c'è il periodo d'oro il periodo d'oro nel 1907 lignanere baccia galuppi presidente dell'ac club milano invitò a monza il direttore di gara americano duane carter e insieme dietro vita la prima edizione del 500 miglia di monza che fu poi soprannominata al race at you award perché portava lo spedono motoristico americano in europa in seguito alla prima edizione a cui non pensero parte team e piloti europei nel 1958 ferrari maserati iniziarono a costruire delle fetture appositamente per disputare la 500 griglia miglia usate no griglia miglia anche se alcuni piloti decisero comunque di non partecipare nel 1959 sull'anello alta velocità si distributò la gara per l'assegnazione della coppa san tamboreus per vetture turismo nel 1960 anche il gran periodo dell'italia tornò sul 3 di 10 km che comprendeva la pista stradale e l'anello ad alta velocità ma anche il team inglese disertarono all'appuntamento nello stesso anno si disputò anche il trofeo alberto ascari una gara di 12 ore per vetture di categoria touring l'anno seguente sull'anello si disputò una nuova edizione trofeo ascari e un raduno di automobili porsche quello stesso anno in griglia di partenza del gran premio d'italia contava 32 vetture e fu vinto da phil hill tuttavia il campione del 1961 entra fa parte della storia a casa dell'incidente che vide coinvolta la ferrari del tedesco wolfgang von trips che uscì di stare a finire sul pubblico uccidendo 13 spettatori oltre al pilota quale dice fu l'ultima disputata dalla formula 1 sull'anello ad alta velocità e per alcune anni si svolse sull'anello solo alle corse minori ed è proprio per abbattere il record il record la prima cosa che si disputò sull'anello in seguito al disastroso incidente di alcuni anni prima fu il trofeo bettorcia per vetture di classe sport nel 1964 l'anno successivo la sopra elevata di monza tornò al centro delle coloniche i mondiali con la disputa della mille chilometri di monza una gara dal carattere endurance vada per il campionato europeo turismo in quella prima edizione alla federale dominò tutta la corsa e vinse una classifica generale e in quella relativa la propria categoria la sport e prodotti di prodotti partecipano al via di fu 134 nel 1066 la mille chilometri di monza entrò a far parte del campionato di internazionale marsh internazionale marche e la gara di si disputò sotto la pioggia ma nonostante questo oltre 25 mila spettatori popolano il frecciato anche nella seconda edizione della ferrari presso al comando della corsa che risulta molto selettiva delle 40 vetture schierate alla partenza solo 19 riuscirono a diversificarsi anche nel 1967 si assistette alla vittoria della ferrari anche se questa volta dopo una corsa più travagliata nel 1968 a causa dell'assenza della ferrari si assistette a uno sconto tra ford e porsche che si risolse a favore dell'america quella del 1968 fu l'unica edizione vinta dalla casa americana l'ultima edizione a mille chilometri di monza che si svolse sull'anello all'altra velocità fu quella del 1969 vinta dalla poche nonostante numerose soste ai box le vetture tedesche riuscirono a sdoppiarsi guadagnando secondi su secondi nei confronti degli avversari nell'ultima mezzola di gara tutte le ferrari furono costrette a ritirare a caso di perminatici che non supportarono l'essere di citazione a cui venivano sottoposti sulla sopra levata via libera quindi alla poche che si classificano immediatamente sui gradini più alti al podio a causa dei cambiamenti di dei regolarmenti dei kingship e le fatture dall'anno seguente si decisi di non disputare più la corsa sulla pista di 10 km ma solo sulla pista stradale e non sull'anello dall'altra velocità per circa 30 anni la pista ad alta velocità cadde in un stato di abbandono nel frattempo nacque la pista attuale con l'utilizzo le nuove tecnologie e solo nel 1978 nuove vetture tornarono a correre tra le nuove curve della sopra levata e continua ancora dal 1969 ad oggi a partire dal 1970 tutte le competizioni sia quale automobilistiche sia quale motociclistiche si disfruttano solamente sul circuito stradale e nell'anello ad alta velocità cade di nuovo in un paio di abbandono durante il quale la sopra levata fu utilizzata solamente per tentare di abbattere alcuni record di velocità e per e per poche altre manifestazioni dal 1978 ogni anno sulla sopra levata si disputa una prova special valida per la classifica del rally di monza e vengono organizzate delle parate storiche in occasione della coppa interropea storica dove le vetture iscritte alle gare percorrono alcuni giri lungo l'anello ad alta velocità durante la settimana precedente a gran premio di italia l'attuato organizza delle esibizioni sull'anello recentemente gli us emington e steel in moss hanno percorso alcuni giri sull'anello ad alta velocità a bordo di una mercedess v 196 e di una mercedess 300 slr nel 2002 una petizione fermata da numerose associazioni ambientalistiche proponeva l'abbattimento della sopra levata per istituire al palco di monza circa 140 ettari per scongiurare il rischio dell'abbattimento fu ristituito nello scorso anno dalla luciana del ben del ben un comitato per la conservazione e lavorizzazione della sopra levata il comitato proponeva un progetto che prevedeva la ristrutturazione della sopra levata per rendere non più una pista percorribile ma un luogo di culto pensi gli appassionati del motosport molti per stragi del mondo delle corse firman lo sconto la contro petizione da presentare ai comuni di milano e monza tra i quali alessandro zanardi phil hill jack brabham silly moss john watson josh verstappen emanuele pirro e rvi poste tu e l'abbattimento della sopra levata sarebbe distrutto l'ultimo elemento della totomo testimonio della storia passata dal momento che le torrette che affiancavano il polio furono abbattute l'anno precedente per lasciare posto alla nuova pit building la questa fu risollevata nel 2013 ma a quel punto grazie a un accordo sigillato nel 2007 tra autodomo e comuni monza si decise di conservare la sopra levata per renderla un punto di interesse per turisti in visita alla totomo delle manifestazioni sportive alla fine del 2014 su tutta la sopra levata fu steso un nuovo strato di cemento e tutta la struttura venne rinforzata e messa in sicurezza la sopra levata è considerata ora parte integrante del nuovo museo della città inaugurato perso la totomo nel giugno 2015 allora un attimo perché non so se devo continuare beh più o meno comunque tutta la storia abbiamo letto si ripete un po tutta la cosa quindi direi che possiamo rimarci qua va bene ok se vi è piaciuto come sempre mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao